Rilanciano la proposta delle elezioni primarie, aperte a tutti, per scegliere il futuro candidato sindaco e salviniani al comune dell'Aquila, che pure hanno già espresso il loro pretendente alla fascia tricolore, ovvero Luigi Deramo. Lo fanno alla luce del sondaggio commissionato da Forza Italia, in cui verrà attestata una rosa di nomi, tra lui l'ex sindaco Tempesta, l'imprenditore Gallucci, l'ex sindaco di Villa Sant'Angelo Biondi e l'ex manager dell'Asel, Silveri. L'esito del sondaggio sarà determinante, forse, in Casa Azzurra per scegliere il candidato da proporre agli alleati di coalizione. Una scelta che non piace ai salviniani, forti anche delle indicazioni che arrivano da Roma, dove tutti i leader dei principali partiti di centrodestra, da Salvini a Meloni a Fitto, sembrano puntare sulle primarie. Se si vuole vincere e noi siamo convinti che si possa vincere e vogliamo vincere, non c'è altra strada che quella di chiedere ai cittadini aquilani chi deve essere e quale deve essere il programma per poter governare la città. Non ci interessano sistemi che ormai sono superati dalla storia, perché il sistema del sondaggio è un sistema che si utilizzava 15 anni fa, e anche soprattutto perché non hanno più l'attendibilità di un dato scientifico. Sappiamo perfettamente che il sondaggio serve in realtà soltanto per indirizzare l'opinione pubblica, e quindi non crediamo che abbia un elemento di certezza per quello che è il dato, ma solo la volontà di indirizzare e di dire forse è meglio tizio che è meglio caro per poi manipolarci l'opinione pubblica. Che le primarie siano una invenzione del centro-sinistra è cosa nota, ma per il candidato d'Eramo è possibile, qualora ci fosse la volontà, di individuare una forma che sia più consona ai valori e alla tradizione di centrodestra. Possiamo ripensare rispetto a quelle che comunemente vengono individuate come metodo appartenente alla sinistra, le possiamo caratterizzare con modifiche che magari appartengono più alla nostra cultura politica, ma credo che siano un passo necessario. Se Luigi D'Eramo vincerà le primarie, qualora Forza Italia decidesse di farle, e ci aspettiamo che Forza Italia o anche le altre forze politiche che vorranno far parte della coalizione sostengano la mia candidatura. Con la stessa determinazione dico che se io dovessi perdere le primarie, sarò il primo a sostenere insieme al mio partito, al mio movimento politico, chi ne è uscito vincente.